Salve a tutti! Posso? Grazie. La deputata Newman, signori! Non è fantastica? Non vi è piaciuto il balletto alla Walk Like an Egyptian che ha fatto online? Un vero spasso. A me è piaciuto. Ma lo spasso non è il motivo per cui siamo qui. No, 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 ma che cazzo? Andate tutti fuori dalle palle! Andatemene a fare il culo! Vaffanculo! Vattene! So che alcuni di voi sono sconvolti dopo aver visto quel video online di me che fermò un terrorista. E vorrei farvi sapere che vi capisco. Sono sconvolto anch'io. Voglio dire, insomma, ragazzi, nessuno vuole che si faccia del mali agli innocenti, certo! Ma sfortunatamente... Beh, sapete, i cattivi... ...non ragionano come noi. E perciò... ...certe volte... ...queste cose accadono e basta. Quindi è già successo prima? Quante volte? Sì, 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 sì... no aspettate un attimo ragazzi il punto è che noi abbiamo tutti lo stesso obiettivo non è vero? tenere il nostro paese al sicuro solo le vite degli americani sono degne di protezione? certo che no ma se aveste servito con i nostri incredibili soldati come ho fatto io sapreste che la libertà ha un prezzo da pagare tu non parli per noi 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 ora calmiamoci calmiamoci non lasciate che le emozioni vi opuschino la mente ragazzi cercate di rilassare tu non parli per noi 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 e va bene ricordate che siete voi i veri eroi e Dio vi benedica vi adora ragazzi tu non parli per noi